Ho portato un passione di persone per direzione. Quello che lo so di questo, che è per il momento di... che io sono nata a Pogliari, perché si è? 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 è un simpatico per dire che all'epoca si era rilogato, che il partecianista che ha visto il pomeriggio, che ha detto a me che la terza, ma anche io stasera non avrebbe dovuto venire sui vestiti in questo modo, non sono vestiti, oltre a me che ho detto, e dovuto venire a pezzotti e a colare. Però io sono, per favore, sono un po' di sotto ad esempio il vocino rosso perché il cibo e il cibo e lo stesso sono lo stesso ma la persona è passata e tutto in processione in processione in processione sarebbe possibile dopo verso il 71 e non posso intanto dire che qui, come sa, stasera ci sono anche due sprocessi e vorrei che vi dici un applauso il primo si chiama Mario Rubo perché da noi tutto il grano di noi e soprattutto e da tantissimi anni e torna quindi non c'è stata una questione di incontrarci Mario è un grande vitalista che sta avendo il primo è un grande vitalista Mario è una fattosia è una fattosia è una fattosia è una fattosia Allora, presento il tuo brano in solo, questo brano si chiama la mamma, sui fan a me, è una scola di scioglietti maggiore e sempre per il momento particolare. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.